A Teramo sono finite sotto inchiesta le numerose proroghe nei confronti della Tercop da parte del Comune per la gestione dei parcheggi a pagamento in centro storico. Ad aprire il fascicolo sulla tormentata e lunga vicenda dell'affidamento delle Slici Blu e Stato, il PM Davide Rosati. Abuso d'ufficio e appropriazione in debita sono i reati ipotizzati dal magistrato che ha affidato le indagini al nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza. Per il momento sembrerebbero non esserci indagati, ma intanto nella mattinata e ieri le fiamme gialle si sono presentate negli uffici competenti del Comune per acquisire tutti gli atti. Il presidente della Tercop, Leo Iachini, si considera parte lesa nella tribolata vicenda della gestione dei parcheggi a pagamento in centro. Praticamente c'era stato un esposto, ma su quale noi non è che abbiamo qualcosa da temere perché siamo stati danneggiati da questa lunghissima proroga, non richiesta. Anzi, sono noi ormai dal 2013 che presentiamo progetti all'amministrazione comunale, progetti di gara, molto vantaggiosi per l'ente. Ancora oggi ci chiediamo perché sono stati ignorati. Speriamo che la gara si faccia nel più breve tempo possibile. Vuole perché noi, avendo lavorato sotto costo per anni, grazie alla riduzione di stalli che ci hanno fatto, ci hanno costretto a indebitarci. Quindi la sospensione del servizio decreterebbe una fila della cooperativa e purtroppo il raggiungimento dell'obiettivo di far fuori questa cooperativa è da parte di qualcuno che c'è stato in questi anni. Ovviamente voi siete a disposizione. Assolutamente sì, non abbiamo nulla da nascondere, anzi siamo direttamente interessati a sapere la verità su questa storia veramente molto poco chiara, fra virgolette. Quanti sono ancora oggi i lavoratori? La variazione è stata sempre da 27-28 dipendenti che lavorano a tempo full time e quindi sarebbe un dramma anche sociale e occupazionale.